Ciao Valentina, la prof di Linkedin, oggi parliamo delle esperienze professionali nel profilo Linkedin. Quanto è importante scrivere all'interno quello che abbiamo fatto, la nostra storia, cosa abbiamo imparato, ma soprattutto collegare l'esperienza professionale all'azienda, perché se l'azienda ha una pagina su Linkedin professionale e la colleghiamo, abbiamo una riprova sociale che abbiamo realmente lavorato con quell'azienda. Non è cosa da poco, vedremo che con il profilo Linkedin si potranno fare altri tipi di lavori del genere legati alla riprova sociale, ovvero io ho lavorato per IBM, perfetto, IBM vedrà che tu sei un dipendente, se non è vero ti può togliere, quindi questa è riprova sociale, io affermo che lavoro lì e ho una determinata autorevolezza, è l'unico strumento al mondo che ti permette di fare questo. Quindi mi raccomando, controlla bene le esperienze professionali, questo è tutto e ricorda esagera sempre!